Torniamo in diretta da Piazza 3 Martiri, mi sono spostata più al caldo, al sole. Non fa freddissimo, però devo dire la verità che al sole si sta meglio. Me lo conferma sicuramente Eleonora De Nardo, grazie alla cultura. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Veramente oggi è una giornata stupenda, bellissima. Ed è una giornata in cui possiamo promuovere tutte le attività legate al vostro territorio, al vostro comune. In particolare questa mostra che si chiama Un viaggio a scatti, stazioni e paesaggi sulla Saciria Gemone. Ed è una mostra fotografica che verrà inaugurata prossimamente. Sì, verrà inaugurata domenica 29 gennaio e l'avremo a disposizione fino a domenica 12 marzo. È una mostra che nasce da un concorso fotografico che è stato fatto a Montereale e Valcellina proprio per attirare l'attenzione e comunque tenerla sempre attiva sul discorso della ferrovia Saciria Gemona. Questa mostra fotografica, questo concorso fotografico, ha visto la partecipazione di decine e decine di fotografi. Hanno raccolto più di 800 immagini che sono veramente una più bella dell'altra. Quindi immagino anche la giuria che abbia avuto una grandissima difficoltà nel selezionarle. Sono immagini che fanno scoprire un percorso veramente straordinario, con paesaggi stupendi, inimmaginabili. Quindi io consiglio di venirla a vedere da questo concorso fotografico che è la mostra successiva che ci è stata concessa dal Circolo d'Arte e di Cultura per le Antiche Vie di Montereale e Valcellina. In particolare il Presidente ringrazio Vittorio Comina che ce l'ha concessa e che adesso ci sta aiutando proprio in questo istante ad allestirla a Flagonia. La mostra si terrà a Flagonia nell'edificio dell'ex canonica. Quindi l'inaugurazione domenica 29 gennaio sarà aperta con orario dal sabato alla domenica dalle 10 e mezza alle 12 e mezza al pomeriggio dalle 15 alle 17. Oltre alla mostra non ci saranno solo fotografie, ci saranno anche dei reperti storici di tema ferroviario, ci saranno dei documenti e dopo durante questo periodo sono stati organizzati tre eventi collaterali sempre a tema ferroviario. Poi ne parliamo perché chiedo alla regia di proporre anche le foto che ci avete inviato in riferimento alla mostra e abbiamo proprio alle spalle una foto davvero molto bella. Sì, questo è ancora un mistero da svelare, questa foto dove è stata scattata e chi l'ha scattata ed è proprio per incuriosire le persone a venire alla mostra perché veramente le foto meritano. Sono bellissime, non sono tutte che riguardano il tema ferrovie, stazioni, treni, locomotive, ma c'è anche una sezione dedicata ai paesaggi, quindi agli ambienti che si incontrano lungo questa tratta. Diverse foto sono proprio anche dei nostri luoghi perché la ferrovia attraversa il comune in lungo e in largo. Parliamo allora degli eventi collaterali perché oltre alla mostra appunto ci sono previsti anche degli eventi collaterali in altre giornate se non sbaglio. Sì, in altre giornate si terranno le domeniche pomeriggio alle 17.30, si terranno tutte nella sala parrocchiale, qui ringrazio in particolare Don Ennio che ci ha concesso questi spazi. La prima sarà il 5 marzo, domenica 5 marzo, ed è la presentazione del libro di Romano Vecchietti, il direttore della biblioteca Ioppi, Il fascino del treno. Poi a seguire, domenica 26 febbraio, ci sarà la presentazione invece di un video documentario che praticamente ripercorre tutta la ferrovia pedemontana, fatto da Tito Pasqualis, Romina De Lorenzi e Ivan Centazzo Casterrotto. Dopo, per concludere, il 12 marzo, che è la giornata conclusiva della mostra, ci sarà uno spettacolo evento a tema ferroviario, scritto proprio per questa mostra alla sua origine. di lontano, adesso l'umanità in viaggio, mi ricordo benissimo il titolo, non è tanto semplice, l'umanità su rotaia. Questa è fatta dalla professoressa Cristina Federigo, del Conservatorio Tartini di Trieste. Io ringrazio Eleonora, l'assessore della cultura di Forgaria Nefriuli, grazie per essere stata nostra compagnia. Noi ora facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta qui a Forgaria, a Campanile del Sabato. A tra poco.